Una storia a lieto fine, quella di Rosanna Stella e del figlio Luigi affetto da autismo, che hanno rischiato di perdere la casa popolare perché quattro anni fa hanno acquistato un camper di 96 kW di potenza. Un mezzo che, secondo l'interpretazione alle modifiche della legge regionale 96 del 96 da parte dell'assessorato e sociale del Comune di Prato, è incompatibile con il diritto ad avere un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il camper in realtà ha uno scopo terapeutico. Lui c'ha tutto il suo spazio sia in altezza che il suo posto per vedere il televisore, stare al computer o un acquisto del genere se in virtù di un qualcosa che avesse influito su quello che è accaduto. Non mi sarei proprio permessa. Se l'ho fatto, l'ho fatto per il bene di mio figlio. Insomma, ho una finanziaria addosso, lo devo ancora finire di pagare. Sono passati quasi quattro anni, cinque anni, quindi è stata dura, dura veramente, perché mi sono privata di tante cose. Come del resto ho sempre fatto. Del resto io vivo del mio stipendio. E sono un'assistente amministrativa all'azienda sanitaria attualmente Toscana Centro. A luglio l'amministrazione ha comunicato lo sfratto. La famiglia si è quindi rivolta ad un legale. E ieri è arrivato il verdetto finale. La regione stabilisce due cose molto importanti. Uno, che non si può applicare questa legge in modo retroattivo. Il camper infatti è stato acquistato nel 2015, quindi ben quattro anni prima dell'entrata in vigore della legge, che è di gennaio 2019. E il secondo punto importante è di tener conto della specificità sociosanitaria, cioè che il camper è finalizzato alle cure e alla riabilitazione del ragazzo. Rosanna e Luigi, quindi, potranno rimanere nell'alloggio delle pippi. Ma questo assolutamente non perderà la casa. Poi, tra l'altro, la decadenza era a due mesi. Poi però abbiamo sospeso il provvedimento, quindi in attesa di revocarlo.